E allora, che botta ragazzi, che botta, subito, manco il tempo di un respiro, va bene. Grande! Che rabbia, che invidia, che invidia, che rabbia! Allora, con un colpo vanno in cinque, questa volta in buca? Sì. Concentrazione, signori. Concentrazione. Sì, addirittura! Wow! Questo è un little big shot! Va bene, signori. Incredibile davanti ai nostri occhi. Signori, come si suol dire, sempre più difficile. Va tuo fratello come... Tiro Big Bang perché in un secondo andranno tutte le bile in buca. Ah, Big Bang. Big Bang, si chiama proprio così, proprio l'esplosione. Big Bang. Quando vuoi, Alessandro? Big Bang, signori. Tutto in meno di un secondo. Occhio! Welcome to the Little Big Shots YouTube channel. This is where you'll find some of the most talented children in the world. There are new videos every week, plus bonus bits of Little Big Shots not seen anywhere else. Just click on the links right now, and why not subscribe? Go on! Come on! Grazie.